Il 2009 del Bari complice lo stop forzato di Marassi si era chiuso con il trionfo sui bianconeri della Juve e per uno scherzo del calendario sarà un'altra squadra bianconera ad aprire le danze del nuovo anno. Al San Nicola il giorno della Befana nella penultima diandata della A sarà di scena l'Udinese e la truppa di Mister Ventura ha scaldato i muscoli. Nell'amichevole contro una squadra di seconda divisione il Barletta dell'ex biancorosso Lello Scianimanico è finita però con uno scialbo 0-0. Fermo per precauzione il brasiliano Barreto che contro i friulani dovrebbe essere della partita, Ventura ha schierato tutti i disponibili provando gli schemi anti-Udinese. Contro il Barletta si è rivisto anche il centrocampista Paro, reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori sei mesi, solo un tempo la ripresa per il regista Almiron. Intanto sul fronte mercato sembra addirittura d'arrivo la trattativa con la Roma per l'esterno Cerci, cresciuto con Ventura a Pisa e in cerca di spazio nella piazza Biancorossa. Il secondo puntello che riguarda l'attacco nei prossimi giorni dovrebbe portare al palermitano Succi.